salve a tutti e bentornati in questo nuovo video ragazzi oggi vi spiego finalmente dopo mesi sono riuscito a risolvere questo dannatissimo errore del tpm 2.0 il vgc tpm 2.0 security boot su bio porca puttana e quanti cazzo di errori su windows 11 a causa di valorant mannaggia agli sviluppatori che se ne strafregano di risolvere questo errore quindi oggi stesso sono riuscito a risolvere questo errore di valorant adesso vi faccio vedere come non esce quel cazzo di quella cazzo di notifica un attimo vi accedo giochiamo eccolo qua ok è andato è andato e oggi stesso mi faccio pure una bella partita quindi adesso usciamo un attimo da non ho capito questa cosa dallo stato della piattaforma non ho capito che cosa è torna al desktop grazie esci allora innanzitutto dobbiamo fare tre cose tre cose vi faccio solamente capire una cosa è solo una cosa vi faccio capire allora questo servizio un attimo che ingrandisco anche vgc a voi non c'è a me non c'era finché non sono andato sul bios e ho abilitato una procedura e mi è passo questo vgc ci ho cliccato sopra e qua c'era c'era manuale ho messo automatico ok ok per far apparire questo servizio chiudiamo chiudiamo tutto e dobbiamo allora questo l'errore che vi dà vabbè questo è l'errore questo qua tpm c'è devi questa versione di vanguard richiede una versione tpm 2.0 e deve essere deve essere anche riavviato e quindi che facciamo chiudiamo tutto vabbè io adesso con la registrazione la concludo qui e ci vediamo direttamente sul mio telefonino mentre riprendo il bios della scheda madre ok a dopo ok siamo qui niente dobbiamo adesso premere cance f12 del f12 dobbiamo entrare il bios il bip l'ha fatto pure eccoci qua ok sulla mia gaming plus della scheda madre sono visto che non sono riuscito a trovare quel butto l'ho scritto qua sopra ho scritto questo allora sì ecco allora innanzitutto sul circuito dovete smettere abilitato invece di dire non si vede neanche di sempre dovete mettere abilitato chiudiamo qua oddio perché lag ok sicuri boot mod da standard mettete custom chiudiamo tutto e fate f10 per salvare le vostre impostazioni ora un attimo che andiamo anche su settings security trust computing qui c'è tutta la procedura del tpm è stato e da disabilitato mettete abilitato lo stesso vale per la sicuro device support abilitato tpm questo qua lasciate stare così come e fate sempre f10 per salvare ok vabbè devo fare f10 e certo non ho neanche cambiato nulla e ritorniamo sul desktop eccoci qua allora ragazzi una volta avviato una volta abilitato quel security boot tpm andiamo su tasto windows più r di roma scriviamo service punto msc e schiacciamo ok scendiamo fino a giù cliccateci sopra da manuale mettete automatico ok ok chiudete tutto andiamo su valorant apri questo qua è il terzo procedimento che stiamo facendo ok il primo era del bios il secondo del vgc apri percorso file mostra altre opzioni proprietà compatibilità esegui questo programma come amministratore ok avvio il gioco anche se è sempre una rottura mettendo sempre i dati qua mantieni l'accesso ok account apri riot poi un'altra cosa volevo chiedere se vi ha funzionato questo metodo iscrivetevi al canale attivate anche la campanellina ma lasciate anche i like perché sono importanti i like più like ci sono più la gente dice oh ok allora questo video è stato utilissimo all'altro all'altro e all'altro e così via così non solo ho aiutato te ma hai anche aiutato altre persone attraverso questa guida quindi grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video ciao